Bene, lui è diventato una sorta di movimento, instaurato dall'artista marchigiano e ha incrementato la sua fama insieme a Marrakesh, signori Fabi Fira. Grazie a tutti. 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 Facciamo vedere in quanti siamo, tirate sulle mani, laggiù in fondo, laggiù in fondo, tirate sulle mani. Raga, facciamo vedere in quanti siamo oggi, girate la testa, guardate dietro, guardate in quanti siamo, guardate. Quanti di voi hanno voglia di far sentire la vostra voce? Quanti di voi hanno voglia di far sentire la propria voce? Quanti di voi hanno voglia di far sentire la vostra voce? Quanti di voi hanno voglia di far sentire la vostra voce? Su, 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 su. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.